Violenza, ingiustizia, povertà sembrano vincere ovunque. Nelle nostre città ci sono dei quartieri considerati pericolosi, dai quali è meglio stare alla larga. E esprimiamo la rassegnazione di non poter far nulla se non di evitarli. E chi vive in quei quartieri, chi guarda invece al futuro proprio e dei propri figli con tristezza, siamo quasi tutti rassegnati, ma non si rassegna invece il nostro ospite di domenica, Don Antonio Coluccia, un sacerdote di strada. Le conseguenze del suo operato lo fanno vivere sotto scorta. Laddove c'è una criticità criminale, laddove le organizzazioni criminali assoggettono i territori, c'è bisogno di persone che occupano quei territori in maniera positiva. E occupare quei territori in maniera positiva per me li occupo nel nome del Vangelo e anche della Costituzione, perché sono prima cittadino, poi battezzato sacerdote. Ci vediamo domenica su Lei 3 sulla via di Damasco.